Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese Citroen 2 cavalli Charleston edizione De Agostini in scala 1 a 8 numero 39. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e anche quelli non iscritti nella speranza che si ricordino sempre che abbiano piacere di iscriversi al mio canale e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date un'acchiata anche alla playlist, mi raccomando, e c'è qualcosa da dire anche su questo numero, non che non funzioni o che non vada bene, però qualche attenzione bisogna dargliela. Nessun problema, io cercherò di dirvi quelle che sono state i miei interventi, quelli che sono stati i miei interventi e poi ovviamente sta a voi montare il vostro modello come meglio più credete. Allora andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, questa è la prima pagina seconda di copertina dei numeri utili e servizi e buona lettura a tutti colori quali, non avendo fatto la collezione, hanno piacere di leggere quanto è scritto all'interno di ogni fascicolo che io sono solito fare vedere. Perché il modello è sicuramente quello che ci ha spinto all'acquisto, ma anche la storia, tutto quello che verte intorno ad ogni auto in questo caso, a mio parere vale la pena anche di dare lettura. Qui c'è un po' da montare, mi fa piacere, perché il motore va sempre più più avvicendosi di particolari, poi andremo a vederli. Non vi spaventate per tutti i tubi di gomma che vi rimarranno volanti alla fine, perché la collocazione la si trova man mano che si va avanti, quindi state tranquilli e vedrete alla fine quanto sarà particolareggiato il vostro modello. E da qui si può comprenderne anche il costo, non soltanto dei materiali, ma anche del lavoro che c'è dietro, fotografie, rivista, pubblicità, traduzioni nelle varie lingue, bisogna tenere conto di questo. Ecco qua. Abbiamo quasi finito. Se avete una colla da modellismo vi conviene tenerla a portata di mano. Io in questo caso userò del Bostick. Se avessi avuto colla di modellismo ma mi si è seccata dovrò acquistarla, ma va benissimo anche il Bostick e quindi usare quello per assicurarmi la tenuta dei tubi di gomma nei loro fori dedicati. Infatti in questa sessione di montaggio andremo a fissare due di questi tubi di gomma. Ecco qua. Vi faccio soltanto vedere una cosa per farvi capire che tipo di canale è il canale di Michele. Sono andato a smontarmi di nuovo, mi segue lo sa, che erano stati montati i convogliatori dell'aria, del riscaldamento. Perché voglio farvi vedere una cosa, guardate molto bene, perché poi non la vedete facilmente così quando vi si dirà di andare a attaccare il tubo del carburatore, che adesso vi farò vedere, quello con il filtrino, in questo foro qua sopra. Quando vi verrà detto di collocarlo vicino al radattore dell'olio si intende questo fornino qui, che vi assicuro che sarà molto difficile da vedere dopo. Ma se adesso io ve lo faccio vedere così sarà tutto più semplice poi sapere dove andarlo a mettere. Ok? Qual è il tubo che sarà poi da andare a mettere lì? Ve lo dico subito. Vedete avrei dovuto prima farvi vedere i contenuti ma io vi faccio vedere questo adesso. Eccolo qua. Il carburatore. guardate che bello questo particolare. Io lo trovo molto carino. Questo è un pezzo unico di gomma ma abbiamo la riproduzione del filtro benzina. Io lo trovo bellissimo. Allora attenzione vedete qui abbiamo due tubi. Quello che è con il filtro quindi il più corto e il più grande come come sezione andrà poi messo qua. Metterete un po' di colla e questo poi successivamente andrà inserito qui. Guardate. Ok? E tenuto fermo ovviamente dalla colla. In questo foro. Chiaro? Bene. Adesso vado a rimontarmi due convogliatori dell'aria che ho dovuto rismontare per farvi vedere questo particolare e ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Ora io userò una colla. In questo caso ho il bostic come vi ho detto prima. Uso questo. un accendino. Questo per svasare della plastica. Vi farò poi vedere. Mi raccomando quello che fa Michele non è che dovete farlo anche voi. Voi prendete quello che vi può essere utile. Qui non c'è nessun maestro. ognuno monta il modello come meglio ritiene. Ognuno è padrone del suo modello. È chiaro? Ok? Io cerco di dirvi come io ho montato il modello. Poi voi dovete fare la vostra scelta. Poi un lubrificante. vi servirà la testata che avevamo tenuto in sospeso già dalle uscite precedenti. Andate a recuperarvi la vite SM dal numero 38 che avete avanzato. E andiamo a vedere adesso il contenuto. Ah e anche il radiatore ovviamente del numero 38. Quello dell'olio. Andiamo a vedere il contenuto che abbiamo in questo numero 39. Vado a leggere il particolare. Collettore di aspirazione. Eccolo qui. Vedete abbiamo i due collettori belli perché li hanno resi tipo ruggine, no? Per come si forma insomma prendendo poi l'acqua. Una volta che il motore si accende questi diventano incandescenti e incandescenti prendono poi questo colore classico. Poi abbiamo il motorino d'avviamento. Ecco qui. Potete già vedere la vite che io ho inserito ma vi spiegherò poi tutto. Poi abbiamo il rabbocco dell'olio con lo sfiato. Eccolo qui. E abbiamo il carburatore. Eccolo qua. Quello che vi ho fatto vedere prima. Ma guardate che ci sono dei particolari che magari a molti possono sfuggire. Che sono veramente belli. Guardate qui. Qui abbiamo addirittura la riproduzione della leva. È un pezzo unico. Ma della leva che si muove quando si accelera. Vedete? Qui abbiamo la molla. E qui la leva che sembrano due parti. Io trovo che sia molto carino tutto questo. Questa è la pompa della benzina piccola. Guardate che meraviglia. Guardate qui abbiamo un altro piccolo serbatoio. Insomma è fatto bene. Io trovo che sia fatto molto bene. Poi abbiamo tre serie di viti. CP, CP, HP e JP. Come vedete tutte e tre sono contraddistinte dal colore azzurro. Quindi qui ci dice che vanno avvitate esclusivamente nella plastica come è anche evidenziato dalla lettera P finale di plastica. E poi ricordatevi come vi ho detto prima la vite SM che dovete andare a recuperare dall'uscita numero 38 perché sarà quella che fisserà al motore il radiatore dell'acqua. Prima cosa da fare. con l'ausilio del lubrificante bagnate la vite SM e vi create questo filetto che io ho già fatto. Quando avvitate la vite fate attenzione che sia diritta sia in questo senso ma anche in questo senso perché se ne guardate solo uno la vite è storta. Imparate a lavorare bene che è meglio che lavorare male e ci vuole lo stesso tempo. Una volta fatto questo prendiamo il radiatore dell'olio e andiamo a metterglielo così da sopra. Vedete questi due perni vanno inseriti in questi due fori. Uno di qua e uno di qua e uno di qua. Non vi potete sbagliare. Lei essendo plastica si allargerà e poi si stringe. Voi solo accertatevi che sia perfettamente entrata in battuta e lo è. Prendiamo adesso la vite e andiamo a fermare il radiatore dell'olio. tiriamo il cacciavite al contrario. Quando sentirete il clac potete avvitare. Questo solo se avete creato il filetto. Vedete? Guardate. Era storto. Dovete fare attenzione a tutti i particolari. Lo abbiamo fatto il primo passaggio. Ecco qua. Adesso ci dice un po' di cose. Attenzione. Il motorino d'avviamento che è questo richiede una vite HP per il montaggio. Quindi prendiamo la vite HP e cosa andiamo a fare? Fate attenzione. Guardate anche voi il vostro. Io ho dovuto allargarlo il foro perché quando sono andato ad avvitarmi la vite all'interno mi ha separato le due parti perché era troppo grande la vite rispetto al foro. Allora quando mi sono accorto che me ne stava separando cosa ho fatto? Guardate. Io adesso ve lo faccio solo vedere perché l'ho già fatto questo lavoro ma ve lo faccio rivedere per voi. Scaldate bene la vite e senza spingerla non dovete spingerla dovete appoggiarla e farla avvitare delicatamente. Lei entrerà piano. Se vedete che fa più fatica dovete scaldarla di nuovo. Non devono allargarsi le parti. Quando avrete fatto questo vedete che si avvita tranquillamente adesso senza allargarsi più potrete levare la vite e andare a montare poi questo. Però per adesso lasciamola qua. E questo è uno. Ci dicono di montare prima questo ma vi assicuro che è molto meglio montare prima il motorino di avviamento. Il motorino di avviamento ha una vite che va inserita che è la JP. Sono un po' corte. Ve lo dico subito. Allora sì la JP sono un po' corte. Vanno bene perché non è che non tengono. Vanno bene però questo che sto dicendo adesso vale esclusivamente soltanto per le persone che hanno fatto Iron Man. Ok? Voi che non l'avete fatto magari non capirete ma la KP è un giusto compromesso perché è più lunga e dello stesso diametro della JP e prende meglio il pezzo. Ma ripeto per quelli che non hanno questa possibilità va bene anche questa. Io l'ho messa solo in più sicurezza. Bene. Cosa vado a fare? Prima di tutto mi vado a creare il filetto qua. Come ho fatto. Quindi da sotto mi avvito la vite. Non nel primo perno chiaramente perché è quello che poi verrà occupato da questo piccolino. Perché questo andrà montato poi così. Ok? Però l'errore che fanno molte aziende ed è un errore. Guardate qual è. Quando voi andrete a montare questo pezzo questo foro non è libero o meglio è libero ma dovrete andare ad avvitarvi la vite ed è sempre sbagliato fare questo lavoro nei modellini. La vite dovete farla passante. Guardate a me. Vedete? Deve essere libera la vite. Se voi non farete questo lavoro diventerete macchie ad avvitare questo. Perché questo va messo così. Vedete? Il perno entra qua dietro. Così. E dovrete andarlo ad avvitare. Ecco perché vi ho detto non guardiamo le istruzioni che ci avrebbero già fatto montare qui il motorino d'avviamento. Ok? Non guardiamole. O meglio così. Perché? Perché poi non riusciamo con il pollice a contrastare bene la spinta della vite. Ecco perché vi ho dato questo consiglio. Mettiamo prima questo. Allora io cosa ho fatto? Semplicemente ho svasato con questo. Ovviamente quanto dovete allargare? Che ci passi giusto il filetto. Non andate oltre. Se no la testa poi vi passa. Altrimenti la testa vi passa attraverso. È ovvio. Quindi tutto sarà molto più semplice. Guardate. Ecco qua. Allora a questo punto semplicemente vado a mettere il pezzo così e vado ad avvitarmi la mia bella vite. Sono piccolezze ma che fanno la differenza quando montate un modellino. Ve lo garantisco. Accertatevi che sia diritto e avvitate. Vedete? Alla fine non serve che questo sia stretto come spazio. È dietro che deve tenere. Comunque voi provate a fare una prova e vedrete che comprenderete meglio cosa voglio dirvi. Lo guardate che sia diritto. Non deve essere storto. Perfetto. Lo troverete un po' inclinato perché magari a qualcuno come anche a me è stato un po' incollato storto e che dovete fare? Vedete qui? Qui c'è un po' più di spazio perché quando lo hanno incollato non sono stati molto attenti. Sinceramente potrei scollarlo e rimetterlo a posto ma questo lo vedrò dopo io. Allora parlo di questo spazio. Non so se si vede. Ecco qua. Vedete? Qua invece non c'è e infatti se guardate il motorino va verso l'alto proprio perché è piegato. Ma questo lo vedo dopo. Adesso andiamo avanti nel montaggio. Adesso andiamo a prendere il nostro carburatore. Vi ricordate che vi ho spiegato come scaldarlo per non farvi dilatare, distanziare le due parti. Andiamo adesso a levarci questa vite che è la HP. No scusatemi la HP. Eccola qui. Mettiamo questo in questa maniera. Vedete? Prendiamo il nostro carburatore e andiamo a posizionarlo così. Mettiamo la vite e poi vi faccio vedere come è messo. Così. Qui. Cosa sto dicendo? Qui. Qui ci va il raccoglitore poi delle... Aspettate ve lo dico subito perché non mi ricordo tutti i termini tecnici. 39.3. Eh. Il rabocatore dell'olio con sfiato. Quindi questo va qui sopra. E andiamo a metterci la vite HM. Eccola lì. Questo motore alla fine sarà qualcosa di meraviglioso. Cioè sembra quasi che alla fine è. Ti parte. La chiave funziona. Allora. Questo lo giriamo così e avvitiamo. Voilà. Controllate che sia diritto. Vedete che è da drizzare. Ecco qua. Perfetto. Così. Voilà. A questo punto infine andiamo a prendere questo che è il rabocco dell'olio con sfiato e andiamo a metterci una vite CP dietro. Io ovviamente l'ho già fatto. Andate a vitarla. Vi create il filetto. La svitate. Poi qui abbiamo un segmento. Quindi non potete sbagliarvi. E qui abbiamo uno scasso. Vi faccio vedere. Eccolo qui. I tubi li facciamo stare sotto. Quelli di gomma. E questo io lo posizioniamo sopra così. E avvitiamo. Potete anche iniziare a stringere anche se poi non è perfettamente nel suo scasso. Una volta puntata la vite lo girate e lo mettete in posizione. Quindi non vi preoccupate. ecco qua. Perfetto. A questo punto ci dice di collocarlo sul motore. Ecco qua. Vediamo se avvicinando è meglio. È troppo grande. Così. Ok. Spero che si veda meglio così. Guardate. Adesso dobbiamo andare a prendere. Innanzitutto questo andrà messo poi sul motore in questa maniera. Ok. Così com'è. La prima cosa da fare è fare entrare questi due perni del collettore all'interno dei due fori. Qua. Uno e due. Quindi inseriamo questo all'interno. Fate sempre attenzione ai fili. Vedete? Così. No. Attenzione. Bisogna prima fare entrare dentro questi due pezzi qui. Forse ho ingrandito troppo un attimo. Ok. fare entrare questi pezzi qua. Uno e due sotto questi due qui. Quindi così. Ah ecco questo si è sfilato un attimo. Per forza. Manca ancora la vite che tiene tutto. Ok. Perfetto. Così. Va bene? Guardate. Inserite queste plastiche qua sotto e poi andiamo a cercarci lo spazio giusto dei suoi tubi questi marroni. Inseriamo il primo ed è dentro. Inseriamo il secondo. Eccolo qua. Vedete? Uno e due. Perfettamente dentro. Poi li aggiustiamo dopo. L'importante è che siano all'interno. Adesso. Una volta fatto questo. Ci dice di andare a posizionare queste parti qui. queste. All'interno dei tagli dedicati qua sopra la testata. Ecco qua. Vedete? Una. I fili levateli fuori. Non pizzicate nulla. Mi raccomando. Parlo dei tubi di gomma. ce n'è tanti ma non vi preoccupate. Ecco qua. Questo è dentro. Vedete però qua? È uscito il tubo fuori. Deve essere inserito all'interno. Controllate sempre tutto prima di stringere. Mi raccomando. Ok. Questo è a posto. Qui è dentro. Ho perso un po' il filo del discorso. Scusatemi. Speriamo di non ripetermi adesso perché mi hanno suonato la porta un quarto d'ora fa. E quindi vediamo. Allora eravamo rimasti se non ricordo male che bisogna andare a inserire perfettamente bene qui la bocca del collettore sopra le testate. Vedete? E come fate a fare questo? Vi dovete aiutare tirando giù questo pezzo qua. Dopo aver inserito anche se non è correttamente inserito lo fate così. Prendete una vite cp. andiamo a inserire qua dentro. avvitiamo ma prima di stringere quando abbiamo un po' di resistenza ma possiamo ancora muovere il pezzo vedete? Controlliamo che nessun tubo sia schiacciato sotto il motorino d'avviamento e che non siano schiacciati anche da altre parti. Se no provvediamo a toglierli. Controlliamo l'allineamento di questo pezzo collettore che vedete i due finti da di qua sopra la plastica. controllate l'inserimento qua sotto di questo tubo rigato. Controllate l'inserimento di questo tubo argentato nel suo foro dedicato. La stessa cosa di qua. Dopodiché guardate cosa succede. Se io faccio così lui si avvicina di più e stringete forte questa vite qua. La cp. Ecco. Voilà. Vedete? che è perfettamente aderente da tutte e due le parti ed è così che deve essere montato. A questo punto possiamo prendere una volta controllate piuttosto ancora meglio che avete stretto bene questa possiamo andare a mettere la testata che non si può inserire sia così che così. Mettetela in una maniera se avete sbagliato che non combaci nei perni così come ho fatto io adesso basterà girarla ecco qua e premere delicatamente così ok. Bene. Adesso abbiamo finito il montaggio e ci rimane da andare a mettere i due tubi. Vi faccio subito vedere. Qui lo scambiatore d'aria sinistro ha due tubi che escono. Uno è corto e uno è lungo. Lasciamo perdere quello lungo. Prendiamo quello corto e andiamo ad inserirlo qui. Guardate. in questo foro qua. Quindi con il collante ricordatevi non agite subito con l'ugello ma sporcate uno stuzzicadenti perché evitate di fare le danno. Ecco qua. Vado a metterne un po' qui. Basterà così. Ecco fatto. Prendo il filo più corto ricordatevelo e lo vado a inserire dentro. Ecco qua. Così. Ok. E lo lascio lì. Adesso se vi ricordate vi avevo fatto vedere invece questo con il tubo della benzina all'inizio piegato qui sotto a gomito vedete che andava inserito in questo foro qua. Eccolo lì. Qua sopra. Ecco. Quindi andate a sporcare con la colla il foro in questo caso. È meglio fare il foro come prima perché così anche se il tubo durante il maneggiamento toccasse parti del modello non si rovina nulla. Ecco qui. dovete stare attenti se avete il bostick perché asciuga molto in fretta all'aria. Ha un grado di evaporazione molto alto per cui io adesso devo ripetere l'operazione perché era già asciutto e ovviamente se è già asciutto fuori non può attaccare. Ok. Ecco qui. Così va bene. Adesso prendiamo il tubo. Non so se io riuscirò a farvelo vedere bene come lo inserisco però quello che conta è che io vi abbia dato l'indicazione dove e come va inserito cioè con la colla e in quel foro lì piccolino. Quindi adesso proverò così a inquadrare ma se vado male metto un momento in pausa lo inserisco anzi faccio così perché sennò altrimenti mi si indurisce la colla. Ci vediamo tra poco. Ed ecco qua come si presenta il pezzo una volta che è stato correttamente inserito. Eccolo lì. Lo indico adesso. Questo qua. Vedete? Correttamente inserito con la colla così non scappa. vi troverete il filtro a questa altezza tra un tubo e l'altro e questo invece che è quello esterno più corto dentro questo spazio qua. Bene. Io direi che possiamo... Fatemi solo vedere una cosa. vabbè rimane appena appena un po' di spazio qui però ragazzi insomma penso che vada bene così poi una volta che c'è il filtro sopra probabilmente non si vedrà nemmeno. Comunque inserito tutto correttamente bene. Adesso abbiamo finito questa sessione di montaggio facciamo una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero che è il 39. Ci vediamo dopo. Devo dire che sono sempre più soddisfatto di questa scelta cioè di aver deciso di fare questa leggendaria utilitaria francese perché è davvero una piccola opera d'arte. Cofano anteriore. Tutto in metallo verniciato benissimo. Abbiamo addirittura il pezzettino che simula lo spruzzatore. Qui abbiamo questo dettaglio in plastica. Poi qui ci sarà una copertura sotto. Non rimane così. Qui abbiamo il gancio che andrà poi ad inserirsi sulla parte anteriore qui. Entrerà all'interno quindi creerà resistenza per l'attrito. Abbiamo la retina che è in metallo. Bellissima. Cruscotto. Il cruscotto non è stato fatto un granché bene. È stato anche incolato questo storto. Vabbè. Vedremo poi. Però quella cosa che è bella che molti forse non hanno notato è che sopra il cruscotto, sopra l'adesivo c'è anche una protezione di plastica ovviamente trasparente e quindi è una piccola chicca. Abbiamo l'inserimento della chiave proprio nel nottolino che grazie al metallo che vedete, la parte metallica è proprio metallo, creerà andandola ad inserire oppure a girare, questo non me lo chiedete ancora, non lo so, andrà a creare massa quindi chiuderà il contatto e darà la possibilità o di accendersi al motore o le luci, questo non lo so, ma magari le luci verranno comandate dal devio, non lo so. Il paro a urto anteriore, plastica verniciata ma molto bella, guardate i respingenti in gomma, abbiamo i rivetti riprodotti, veramente molto bello. Il sedile, tutto in tessuto, tubolare in metallo, elastici, ganci in metallo, fascia lombare e sacrale, similpelle, tessuto vero, bellissimo. Porta anteriore sinistra al lato guida, cerniere in metallo, vetro basculante come in quella vera, qui poi ricordatevi per fissarlo perché altrimenti rimane disallineato come verticale rispetto alla porta, basta premere così e si ferma, vedete? Qui abbiamo la riproduzione del pannello interno con l'apertura, non è funzionante ma è carina, addirittura hanno riprodotto anche la chiusura dall'interno, la cerniera dove si aggancia la porta, anche questa ovviamente puramente estetica, anche se non so se funzionerà questa ma dubito perché in plastica, intendo come inserimento per tenerla chiusa, non lo so o forse funzionerà più questo che in metallo ma lo vedremo dopo. In seguito e poi il motore, eccolo qua dove siamo arrivati, io direi che sono proprio contento. Qui abbiamo queste parti, vedete che manca un po' d'argento sulla testata ma chiunque abbia a che fare o abbia avuto a che fare un po' con del modellismo basterà prendere il silver come farò poi io o anche in un'uniposta argentato e siete a posto sia di qua che di là, quindi non vi preoccupate di questo. Quello che conta è che tutto sia stato montato correttamente bene come a me risulta essere. Bene, poi abbiamo questa che è qualcosa di meraviglioso, vi volevo soltanto far vedere spensioni, guardate qui, concentratevi su questo cilindro e su questo perno, ovviamente indipendenti. Io schiaccio qui, non va giù anche di là, va giù solo qui. Questo è un altro ammortizzatore, vedete, che non si muove come in quella vera. Stessa cosa ovviamente per quelli posteriori. Concentratevi qui, guardate che bellezza. Qua abbiamo dei gommini dove all'interno entra l'asta. Cosa vi devo dire? Bellissima, la trovo bellissima. Bene, a questo punto io direi che possiamo chiudere il filmato. Abbiamo presentato il numero 39, eccolo qui, così. Adesso andiamo a montare il numero 40. Vi anticipo subito che è il filtro dell'aria e il supporto del filtro dell'aria con la barra di rinforzo del filtro dell'aria. Quindi seguitemi, mi raccomando. Questa sessione di montaggio, almeno a vederla così, mi sembra molto più semplice. E poi, per chiudere questo nuovo invio che ho ricevuto oggi, c'è il numero 41, che andremo a montare una parte del convogliatore d'aria. Infatti vedete la parte posteriore, la parte anteriore ci verrà data nelle prossime uscite. L'alternatore e la cinghia dell'alternatore, questa qui. Tutto qui. Bene, Michele vi saluta, vi dà apportamento al prossimo video, mi raccomando non mancate. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se avete piacere, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist del canale perché ci sono altri modelli che, secondo me, per gli amanti del modellismo, sono interessanti. C'è anche qualcosa sui robot, sull'armature, su delle repliche di armi. Date un'occhiata ragazzi. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!